Benvenuti su Reality Italiano. Siete curiosi? Preparatevi a entrare nel mondo scintillante e turbolento di Temptation Island. Il reality è terminato ma le polemiche non si fanno attendere. E chi se non Selvaggia Lucarelli poteva resistere a sferzare nuove stilettate? E infatti nelle stories di Selvaggia appare qualcosa che lascia intendere che anche questa volta non è tutto. Inchiostro originale. Selvaggia Lucarelli, la temutissima opinionista, non poteva certo farsi sfuggire l'ultima puntata di Temptation Island, no no. Con oltre 3,5 milioni di telespettatori agguerriti, lei si è calata nella tempesta dei sentimenti di Mediaset con il suo solito stile affilato. Che ne penserà della coppia di turno, direte voi? Bene, preparatevi a scoprire i giudizi senza pietà sulla nuova coppia appena sbocciata. Ma prima metti un like ed iscriviti al canale reality italiano. Mirko e Greta. L'avventura amorosa di Mirko ha fatto scalpore. L'abbandono solitario di Perla, la sua fidanzata, ha sconvolto tutti, ma lui ha trovato conforto tra le braccia della provocante tentatrice Greta. Amore a prima vista? Ma, forse un po', troppo affrettato, dice Selvaggia. E cosa c'è di meglio per suggellare un amore appena nato se non un bel tatuaggio coordinato? Ma attendi un attimo, chi pagherà il laser per rimuoverlo? La nostra giornalista non si tira indietro dal chiedere in tono scherzoso a Maria De Filippi, la produttrice di questo show folle. E voi, telespettatori, cosa ne pensate di questa coppia? Non siete gli unici a porvi queste domande. A dare manforte alla celebre opinionista. Le segnalazioni riguardo a Greta sono giunte, e in gran numero. Dejanira Marzano, esperta di gossip, avverte, attenti con chi parlate, le estetiste sanno tutto e riportano tutto. Sarà un lango a viaggio tra misteri e supposizioni quello che aspetta Mirko e Greta? E chissà se il laser sarà necessario alla fine? O magari è solo un tatuaggio all'ennè? Se vi siete divertiti con questo racconto pungente, lasciate un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdere nessun altro scoop. Non dimenticate di condividere questo video con gli amici e supportarci sempre. Grazie.